La cosa che mi piace più del mio sport è la completa libertà che ho nel sedermi a terra e giocare senza protesi, dove posso fare qualsiasi cosa, mi sento proprio alla pari degli altri. E la cosa che meno mi piace è che è uno sport abbastanza faticoso. La cosa che maggiormente mi infastidisce, ma sono sincera, una in particolare non c'è. Sono una persona abbastanza tranquilla, non lo so, non mi lamento quasi mai. Forse un po' il disordine, forse sì, sono un po' maniaca dell'ordine, mi piacciono le cose sistemate, un po' a modo mio. Sì, forse il disordine. Un atleta che ammino molto in questo periodo è Sinner, perché trovo che lui mi trasmette proprio tranquillità, calma, concentrazione. Vederlo giocare, non lo so, mi trasmette tutto questo, molta forza. Nella sua calma mi trasmette forza e grinta. Se la mia vita fosse un film sarebbe... E viva la Romagna! Per fortuna non ho mai subito casi di bullismo, nemmeno da piccola, anche perché comunque io vengo da un paesino di campagna, quindi sono qui piccoli paesi con pochi abitanti, ci si conosce tutti, siamo tutti amici, tutti una famiglia. Quindi per fortuna no. Nemmeno quando ho subito l'amputazione, che ho subito molto tardi, avevo 33 anni, quindi ero già abbastanza grandicella. Per fortuna non mi è mai capitato nulla di questo genere.